ovviamente tu non mi vedi ma io sono col caschetto il caschetto nel senso quello di secondo livello almeno serve esatto questo qua è un altro caschetto eccomi qua in squadra ecco qua mi sento distante si si perchè non ho ancora le sputte io ho messo pronto no stavo parlando qua si va sudata sono appena levato il casco e messo le cuffie ciao 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 mamma mia ma l'hai visto il messaggio su discord adesso lo sto vedendo arriva arrivo mi sembra che sta bene scrivendo la bicicletta adesso arrivo iniziate pure ciao si si io ho già giocato diverse partite ma mi sono divertito bravo bravo è arrivato da solo è arrivato un giacca nera ma è calato giù dalla macchina l'ho accrivelato dei colpi ma dai non ci credo una contentezza guarda spettacolo l'ho sbullizzato poi è arrivato un altro lo ha parcheggiato dietro io ho tirato una granata dentro casa l'ho fatto secco ma bello bello bellissimo oh yeah vieni qua guarda vai a far la schiacciata al canestro 43 secondi ah no aspetta devo mettermi qua vai schiaccia un po' troppo sotto c'è la signorina che vuole usare vai tu non capisce lei eccolo grande Michael Jordan ciao oh guarda la signorina aspetta oh guarda ah però ma no ecco ti ha favorito hai visto hai visto è grande vai vai con le ruote tu è troppo tardi oh bene io ti seguo seguimi va seguimi ci capisco un cacchio devo anche anzi devo prendere gli occhiali se no ti posso anche seguire come un cane da riportare per i c i non vedenti ma veramente io ok sono io il cane no no io senza gli occhiali ah è giusto sono io il cane che ti guido eh ma pensa a livello di battute eccomi qua con gli occhiali da pubs dovrei farmi gli occhiali da pubs proprio dedicati un resort no grandissimo ci 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 uccideranno tutti vediamo se c'è altra gente sopra di noi porco cacchio quattro persone ci uccideranno la squadra il nostro problema sono gli altri mica sei tu porca te mi stavo alzando e sparando grazie grazie ma se invece noi gli edimo scusa andiamo tutti insieme eh gli edimo eh whatsapp ce l'hai oh scusa non è che volevamo solo fare la stessa missione bello sai che bello gli insulti tipo no vaffanculo ti senti realmente vicino sarebbe bellissimo infatti le prime cose che ho detto vaffanculo stronzo quindi figurati se le dico io ah cazzo ah quelli vogliono andare subito a prendersi come si dice è uno qui oh oh rambo ma no 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 allora vengo subito da te dai no no è tranquillo ma no no ma che mi frega fammi mettere allora il 6x qua il 3x su l'uzzi ci posso mettere solo questo il 3x lo butto e la padella la butto allora carico no vengo da te tu ti sei ping ti vedo eh però ti riesci a pingarti anche in caso sparisse ok audio vengo vai era sopra il tetto era sopra primo piano però è sceso era primo piano da dove in quelle case che ho pingato ah no è sceso è sceso non so se è tornato su era sulla casa blu a tutta a destra dove sei tu qua ah ok ok preso eh sei fuori cifra via via me ne vado c'è pure la macchina qua allora ti conviene ad andare qua bravo ma vuoi che mi hai pingato pinga giallo ok quello così di sei fuori dalla linea di volo c'è tempo di fare loot ti conviene a prendere questa strada qui pingata di giallo questa questa sì quella lì sì adesso alla prossima giri a sinistra sul ping giallo ok e la fai tutta tutta dritta madonna madonna non si passa mai vicino alle case no vai tranquillo qui non c'è nessuno vai tranquillo qui non c'è nessuno perché o c'è arrivato con la macchina non c'è nessuno troppo distante ok il ping è sul sull'antenna adesso io adesso arrivo grazie lì non c'è ci sarà forse nessuno minchè che paura era un rumore da mister labbro no minchè quel dossetto ma pregata niente bisogna prenderla più dritta non c'è nessuno via la macchina purtroppo non si è salva grandissimo quanto riappaglio ancora deve arrivare e sì ma cazzo ha il ping della bravo ale ma è lassù porca troia qua dalla scala che città di merda a quale sì ma l'altra volta l'ho girata interamente approfittiamone ma tanto mi sono preso ci sono venuto con la macchina proprio sulle scale ecco era arrivato da lì a sinistra sono scessi ma è vero fa un po di fatica però sono ok dove cazzo è questo posto sarà il piano di sopra due eccola qua bravo ottima chiamata 120 è buono 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 120 va bene scusa c'è due minuti perché arrivi qua la safe più altri perché prima che riparta quindi puoi venire qua c'è un sacco di roba porca troia sì sì me la sono pingata la macchina e quindi potremmo anche usarla per andar via l'ump rispetto a luci daniel secondo no daniel secondo è inferiore a l'ump quindi no rimane il luci per adesso si è bellissimo su non mi ricordo come si chiama quel gioco che facevamo in due dell'orrore pavlov ah sì sì survive quando l'ho trovato ma te te ricordi ancora ma si si mi venivo a prendere stavi scampando che non c'avevi più che figata ma non potevamo parlarci cioè tu sei capito che dovevi venirmi incontro ho capito che eri in pericolo mamma mia ma è un momento fighissimo impagabile cioè io quando ti ho visto che stavi iniziando a venire verso di me stavo per piangere forse perché non sapevo usare la la radiolina non funzionava che cazzo non mi ricordo è stato epico quello lì che ti fuggiva sono arrivato io incontro a te non ci credo guarda un'emozione come una vita reale guarda cioè lì ma hai salvato come se fossi veramente fra proprio ero emozionato proprio mamma mia che forza che forza che forza sai che c'è quel gioco che sono sempre in dubbio ma Arizona Survive 2 per PlayStation VR 2 è un bel co-op zombie con la storia che vai fai non è bruttissimo mettiamo nel carrello quando hai scontro arrivo beh aspetta vediamo la linea di volo si ce la faccio ce la faccio ma io che cacchio devo prendere ancora minuto e 40 devo fare velocissimo vado verso la macchina più che altro allora io vado no 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 la macchina è pingata con l'arancione eh comincio io a luttare quelle persone lì e te cominci a venire verso allora io vengo verso la macchina così tu sprechi il tempo a luttare altrimenti devi portare solo la macchina basta perfetto tieniti sulla sinistra per le case eh perché la destra l'ho fatta io del villaggio trovi meno roba bravo di là esatto io sono andato invece sorgente ne manca una dopo questa so io ok porto la macchina non so in che modo perché lì è tutto sì sì ma facciamo che non ci andiamo intanto non ci credo minca ho trovato dei passaggini wow fatta oh siamo riusciti a farci un altro di quei tour panoramici eh arrivo sì ok io la fermo qua pingata e lutto lì scusa che cosa ti serve a te hai delle pistole o dei no no per trovare i caricatori quelli eh 5.56 e M24 no quindi ti serve un caricatore esteso per pistola cosa no 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 mitra mitra ok caricatore esteso ok esteso estrazione rapida volendo eh arrivo vabbè dai fase 2 qui la bevanda la prendi? eh no 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 li sto cercando eh qui c'è per la pistola guarda tu andiamo 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 niente via pingazù e arancione allora io sono già tutto curato eh sali in macchina e ti curi che fanda ok mi sa che vado dritto per dritto mi sa che ti devi fermare eh fermati esatto ti sei fatto male? no no fammi guida a me adesso tu puoi curarti e dopo ho sentito la lattina e la guida guida automatica no no ah grande allora l'hai fatta mi sa che era la tua ah sì perché l'ho annullata però l'ho sentito dopo ok allora a sto punto 47 in vita c'è un fottio di gente esatto sentito che lo sparo? allora io ho 875 soldi se ci fosse un tempietto di livello allora laggiù c'è un livello 1 eh che ci potrebbe dare il rì quello che sai il medicinale quello che tira e suscita subito proviamo ad andarci ci passiamo al pingarancione intorno e vediamo se non ci sparano cazzo bisogna ricordarsi di segnare la linea di volo eh perché sparisce adesso sì ma la ricordo ah e quel è il pingarancione secondo te? è solo a sinistra no lì c'è passa sopra cioè no sopra sì più o meno sopra c'è passa oh pulmina pulmino sì vabbè mi sa che lasciamo stare da lì eh mi sa sì mi sa sì dai vedo un attimo qui dentro qui c'è il come si chiama il coso per non so che cazzo è per l'M24 le cartucce era no 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 l'abbia l'abbia l'antico non ti serve no no l'abbia l'antico è per l'antico macchina fase 6 oh 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 c'era gente è dentro quelle case lì c'era la molotov che ha tirato cazzo sì c'era la molotov ah eccoli è qua lo visti eh sì sì ma devo curarmi sono andati via col pulmino eh mi hanno tirato la molotov ma non mi hanno preso ah e uscivo dall'altra parte cazzo ma allora c'erano porca troia eh li ho visti li ho visti madonna ha la testa son manco spuntato porca troia cioè non dovevo spuntare però cioè fufum fufum morto colpa la testa poco più avanti cazzo macchina vantottato così io pensavo capito che erano solo quelli quindi invece non è ce n'erano e altro pure eh sì vabbè 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 questo si è fatti bravi bravo bella partita mica rom è sempre andiamo cacchio se guardi l'inizio della mia live c'è vol il caschetto della bici ancora sono ancora costitato devo mangiare bere anzi sto bevendo no no non mangiare non bere non fa niente devi sopravvivere acqua gasata anzi acqua gasata con ginger beer dentro da tu insegnamenti buono cioè non quello buono buono che trovi tu io quello ce n'è uno dei grandi magazzini però tipo acqua gasata con zenzero buono antinfiammatorio antibatterico fa bene a tutto stasera che hai fatto hai fatto un po' rocket un po' visto a worms con chris con chris senza e poi dopo niente parcio da solo partite da solo partite poi quando si è fatto due partite solo una partita insieme ai altri per fare delle missioni usa quattro grade pomogene in una sola partita e devo percorrere 1500 metri con motore spento ah io c'ho due missioni del cacchio da fare con i bot perché c'è scritto uccidi e fai un assist almeno due di questi entro dieci minuti e allora adesso un momento ah quindi questi sono i bottoni oh bello via Alim adesso ci voglio salutare un posto dove non andiamo mai che si chiama Milda bene bene mi ci ha portato chris malefico sai che ogni volta che gioco da solo c'è qualcuno che si balla sul palco e quando siamo insieme c'è nessuno che desolazione mi so accorto Ale che tipo da due o tre volte che gioco che sono leggermente migliorato cioè sai quando tipo anche con Rocket League mi ce fa quando ti accorgi che sei migliorato ce fa mai bravo sì sì è successo soprattutto quando abbiamo iniziato a giocare da soli si notava proprio evidente adesso vedo che faccio quando te lo dice un altro cioè quando lo senti te sì sì dai sì sì adesso un po' meno però qualche miglioramento sì ma sto cambiando armi più che altro quindi adesso inizio a provare insomma il mini 14 ho usato un po' meglio ho abbandonato l'Ms14 io Ale prima ho usato diverse volte il Dragunov e c'ho qualche grande il Dragunov non lo trovo più se no prenderei sai che mi sono buttato in ritardo adesso arrivo lo diavunov esatto Gigi Bravitutti o indivina chi è Gigi Bravitutti e beh Rufy no no Gigi Bravitutti ah Duma Gigi Bravitutti Duma sì scusa ero preso dal fatto che c'era Rufy prima allora che è sopravviso allora mo ti dico mo ti dico in questa casetta qua a parte che ho segnato un albero quindi non so c'è un botto no ma non c'è un botto anche qui c'è un botto non so botto botto morto morto d'un botto è nato morto sto qua perché ciao Duma ciao allora mi ricordo le granate stordenti le ho finite la missione uso un totale di 10 granate stordenti no quindi la stordisco adesso devo assolutamente fare un'altra kill so stordito proprio ah l'ho sentita tirarla e beh grabe i ghiacos e gli altri li prendo così quando io la tiro cazzo ragazzo odio quando non ti passa io voglio il giubbetto perché non c'è il giubbetto in te le case del merda e non c'è non c'è neanche qua no il giubbetto come i bambini eh i zaini i zaini orca quanto odio sta roba guarda merdazzo ma cos'è quella roba un botto no un vaso era invece che un botto cazzo c'è 10 minuti per chillare ma perché non c'è il zaini merda oh finalmente sia laudato Gesù Cristo omogena ma che caccia c'è tanto lo tiro prima è stato strozzo ho tirato c'era uno che gattonata fammi fare un assist arrivo eccolo fammi fare gattonata lascialo aspetta tranquillo adesso lo fai vai ah no devo lasciare un colpo per farlo fermati ferma no 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 non preoccuparti me l'ha dato missione completata mi ha dato l'assist grande c'è una no non c'era no c'era uno che gattonava perché prima non l'hai uscita ho capito bella praticamente ho fatto due missioni insieme una era uno entro dieci minuti e altro due ed entro dieci minuti oh cazzo qua c'è la cassa di uno eh sì è quello che gattonava ah il gattonator c'è un cazzo non c'ho perché continua a saltare storta allora io c'ho un micro uzi devo assolutamente trovare no io devo trovare un cecchino allora ho un fucile cecchino 316 ok va bene SKS l'ho trovato ok questo lo trovo 303 colpi troppo 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 se trovi il supporto per da spalla per l'uzzi eh che sembra che una tua amica che si chiama l'uzzi si è fatta male e gli serve il supporto per spalla a l'uzzi si serve sempre merda passi direzione 185 preso dietro la casa ma si vai finiscilo ti devo un assist spara al culo sparagli dove vuoi ma ha dato luce ah si giusto l'assist c'è un cazzo madonna ho lasciato indietro tutti i kit prima quanti ne hai io ne ho 3 e 5 bende uno merda ma qua ci sono già stato in quella destra wow mi ha sparato non c'ho l'ottica dove stava sto buttazzo dove stava eh non lo so non lo so allora uno è in direzione di là e l'altro ce l'abbiamo davanti ora vado in direzione di là che non so dove è allora uno è verso l'arancione uno ce l'abbiamo davanti dove vado io un'ottica merda vetro i vetri sono umani eh no so io ah sei te sei te quindi avevo ragione avevo ragione mi ha detto una cazzata i vetri sono umani è una frase un po' da capire perché i vetri sono umani eh tu dici hanno una vita loro esatto già i vetri sono eccolo eccolo morto bellissimo dammi tutto quello che c'è dammi tutto di te l'ho trovata l'ho trovata io ho un 8x su un mutant se mi dai un 6x ti do l'8 eh magari invece l'ampk5 l'ampk5 subito preso mp5k mp5k attenzione 300 ma sai che prima invece ho ucciso il giacca nera che tra le altre cose ha fatto era andata a prendere il drop cioè a tutto del livello 3 ho preso il famas si la foto non gliela foto nero non lo prendo più eh il famas sale tanto sono 30 colpi non si può mettere il caricatore steso e non gliela fa tenere quindi non lo prendo se ci fosse il P90 si qua vicino qua vicino direzione guarda sulla bussola 25 e 15 che cazzo devo fare qua antidolorifico un giubbato livello 3 è che sti bot si mimetizzano cioè sta fermi fan cazzo allora granata sturdone wow 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 ma sparato male si si dove cazzo sei eccolo eccolo al centro commerciale ma veramente era dietro di me ok ok cazzo ci avevo cazzo ci avevo il muto no ho visto un altro con la casa là ah ecco antidolorifici granate bombe trick e track vado vado nella casa mi sembra di averne visto uno qui si sento rumori comunque almeno tre granate per essere dei ganzi sta che sopra molto via un kit o poi mi sono stordito a se tu bello qua mi pingo eccolo sa che erano mano dove si trova sotto la casa o sopra madonna questo era umanissimo 6x mi rinuato era un sacco di roba era umano adesso è disumanual grandissimo piglia tutto ti do l'otto per dammi il 6 ti mollo il no no io ce lo posso mettere però mi sembra un po esagerato col mutant se tu hai un cecchino ok aspetta che ti mollo ti aspetta che ti mollo l'otto e qua cazzo al 6x dove sei per non c'è rimasto ok compensatore caricatore esteso caricatore esteso bello bravissimo bravo bravo grande ci sono due granate qua e anche le fumogene granate frammentazione c'è un antidolorifico qua sopra ho sentito passi e si qua dietro no no allora è più morto grandissimo mp 5k non ho nato questo morto ok sei per buttiamo via questo mp 5k cazzo ci potevo ci poteva mettere anche il 2x cazzo niente vabbè mi sono pingato uno che aveva non muore 249 si non ci abbiamo la macchina ecco la giù la macchina sei dai allora o non ho segnato la linea di volo merda vabbè andiamo va bene sì sì va bene ormai è stata indecisione aspetta bisogna andare qua mi devo curare mi devo curare mi devo curare ecco in mezzo alla strada sulla mezzeria e non la tiriamo non c'è niente questa guarda intorno ah io uso le bende va dai guida automatica e coca cola allora prendo anche un antidolorifico mentre guida mamma mia una finesse una finesse un finisseur che non c'entra la finisseur che è successo c'è un albero c'è le rocce allora io mi piglio un antidolo anzi no le bibite un antidolo nel senso che eviti di fare del male agli altri sì sì è una cosa nuova è preventivo è un po come minority report la pre crime è un predolo ah io devo ridare quel motore spento per fare la missione mi dispiace fallo fallo adesso vado giù scese io direi che non andiamo in più nessuna casa bello sei per non male ma comunque basta 1500 metri 1500 metri senza moto vabbè rifai la vasca torna indietro dai spegni no no è partita si farò altre volte adesso adesso sasso 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 mi sono sbagliato non è proprio bello qua no qui no esatto siamo da va ci sparano da school come niente allora a school non vedo gente ma ci sono le porte aperte credo anche le porte sparate vedo qualcuno lì davanti ad e davanti a cofano dietro il sasso hai uno dietro la casetta destra uno dietro il sasso uno dietro la casetta destra e ma è messo a terra è messo a terra è messo a terra occhio alice dietro quello dietro all'albero c'è dietro quello all'albero o porca troia ecco fermati fermati ti vede ti vede sì 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 c'era il pompa quel buttazzo di merda audio morto mp5k zeno livello 3 68 colpi ma scusa l'altro è morto anche l'altro madonna ti ha tirato una pompata di guida alla guida non avevi notato che mi ero vestito come te ci avevo presi i tuoi vestiti quando sei morto la giacca con lo zaino non si vede allora tre fumogene ripiglia una granata allora questo è la sua lo vedo lo vedo proprio la fiammata ok se n'è andato a destra chi ha tirato alla bianca io io ok ne tiro tre no ah si ok c'è gente laggiù dovevo mandare con la macchina c'è gente laggiù eh dove è la macchina è lì dietro non la vedo messa a terra sei uccisioni bella da male fase 4 si incrociamoci dimmi quando mi giro vai 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 superami supermi supermi così non è tu su per me devi superarli ma è una pratica ecco 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 comunque tu supermi di tipo tre medi una lunghezza di una macchina tu mi superi io salgo allora a lì con quello che ho messo giù io uno hai ragione te lo meriti c'è la cassa vabbè fa niente a sinistra ecco visto è tutto tu io bici colpi mi deve ancora curare io ancora una volta salute la sim direzione 300 laggiù albero c'era un altro è questo è qui cazzo quello come sparare sì sì ma c'è c'è anche quell'albero lì c'è un bot che fa tra un albero e l'altro si è andato è andato più in su di quello dov'è il tizio è qui ok ok lo vedo lo vedo vai fallo niente non ho resistito sì sì vai luzzalo comunque ping arancione c'è gente che stava risalendo è 52 ok ok interessante no non so se ho fatto una cazzata sì sì lo vedo ma preso di striscio e direzione direzione e guarda quell'albero lì lì c'è gente qui sopra 7 62 ah lasciamo la macchina lì oramai direi eh sì 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 ok ok eh sì 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 sopra 5 in vita guadagniamo spazio e due sopra sì allora io vado io vado avanti ci apriamo a forbice io vado a sinistra ah ma cazzo no no guarda 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 dove la mappa la mappa non vai nella direzione giusta vieni vieni lo so però c'è qui sopra eh lo so però dobbiamo aprirci 4 in vita ok ma tu dici che sono la sono sopra posso dirti una cosa secondo me fanno il giro da qua dove sono io sa che forse l'ho visto che sale sul sul tetto sul tetto della casa e non lo so visto visto qualcosa che si arrampicava ma non so se era non ho visto niente non importa non importa attenzione perché magari ce l'abbiamo qua dietro l'ho visto l'ho visto merda guarda è lì è lì è sdraiato sei pronto vai sparagli anch'io anch'io ok ucciso porca troia allora ormai la tiro l'avevo sganciata ecco ecco ce l'abbiamo dov'è? c'ha 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 da laggiù non so da dove da laggiù o da qualche parte però attenzione voglio dire che è uno e uno e uno, è uno l'ho visto l'ho visto quell'albero lì grande grandissimo però io comunque come avvistatore e ricognitore so forte bravissimo si si il ballo del qua qua no il ballo del grazie e siamo i winner ah c'ho ancora i guantini della mountain bike ho giocato ho giocato con i guantini bellissimo bellissimo questo anche è bello cattivo come ballo vai 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 non puoi farlo a lontano ah ma tu un altro fai ma non me lo fa non te lo fa fare quello lì no no è un ballo unico unicum bella grandissimo è grandissimo the ultimator perché ammazzi l'ultimo the ultimator bello ma comunque non ho mica visto le kill adesso le vedo sarò a 8 forse a 10 buono 9 grande grandissimi siamo pari 740 650 nastrage livello 19 però devo dire una cosa tatticamente l'abbiamo giocata bene non siamo andati alla cazzo abbiamo cercato punti a parte i metri che guidavo per lo school col motore spento sì vabbè vabbè ma questo vuol dire superiorità in tutto ti puoi permettere anche di fare queste cose che mi sto appiccicando alla sedia c'era un giacca nera lì che andavo dritto col motore spento sai una crivellata mi tira io ho notato che mi car 98 no proprio facile ultimamente perché rimani invece io tipo l'ultima giocata di ieri quando poi dopo siamo morti sul ponte invece l'ho riguardata l'avevo giocata proprio bene che mi sporgevo come fa Duma come fa gli altri sono sport a destra e ho sparato poi mi sono sport a sinistra e ho sparato però non l'ho tirata a terra per poco insomma così bisogna fare bisogna essere veloce nella scoprirsi cioè te ti puoi permettere di stare fermo solo se sai che non ti hanno visto e poi in quel caso lì ci devi avere proprio un car 98 con un colpo alla testa comunque quello di prima che ti hanno ucciso a te e io sono venuto e ero dentro casa con la finestra al buio mi sono sport boom cia cazzo deve essere un genio quello lì che già pensava l'avevo già visto l'avevo già visto e mi dava la finestra sì sì infatti è stato bravissimo dai dai dimmi che dimmi che c'hanno i soldi quelli lì ma qua c'è i botti chi ce l'ha i soldi ma siamo con i botti ma io le altre giornate c'era sempre qualcuno che ballasse niente mi tocca ballare da solo per terra ora dove andiamo nella città d'annata rozo o jazgnaia polianiano eh jazgnaia è un po' sempre ah devo tracciare la linea di vola così ci ricordiamo eventualmente jazgnaia polianiano jazgnaia polianiano però vediamo quanti se ne buttano perché di solito verso verso rozo sono buttati 50 ecco il 70% noi possiamo andare al limite tipo a rozo a prendere a rozo tranquillo qua sono già 30 vuol dire 70 vai rozo prendiamo roba e andiamo torniamo indietro verso jazgnaia e sto stolber tieni conto che una trentina saranno lì a rozo a rozo che non è che è gratis eh sì 70 di là e 30 e subito dopo 4 4 sono dietro di te 1 1 da solo no non andare sopra ci va loro ti conviene ci vanno loro ci vanno loro eh cazzo ok 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 dai allora ce n'hai uno lì due lì sono venuti da te sono in tre che sono saliti di cura non c'è normale spostati spostati dalla parte opposta dove sei sceso non c'è non c'è bene non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è mi sa che appena prende ancora due colpi un giubbotto arriva o scendi tu dalla città perché comunque vi incontrate sicuro sì sì ma stanno girare qui fuori casa ah sì o porco cazzo mica uno ok ho preso un giubbotto arrivo ecco mi sparano pinga dove sono così mi rendo conto ok ok sto salendo bravo a terra giusto sì bravo che cazzo stava a morire eccolo un altro dietro l'albero finiscilo finiscilo ok guarda che c'è altra gente ok scusa allora lo vado a finire dai se riesco abbiamo la macchina madonna che c'è un altro audio stai fermo eccolo giustiziata è ben più 5k servono mi servono un sacco di di nove millimetri ma sei tu sì 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 a terra bello non c'ho più le munizioni quali usi te 5 e 50 ok c'è una 22 ah ecco ne ho trovato due pacchetti non c'ho il caschetto vabbè vado di volta ok io c'ho un 6x c'è anche un 4x lo prendo ti serve? 4 l'ho preso adesso me lo tengo ah finalmente un caschettino bello 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 bellissimo allora c'è uno che spara botti oh dove cazzo ha sparato? ah l'ho visto? oh porca troia non lo vedo più come mai lo vedo in un momento? ah ok e vai dammi una bevanda non c'è un cazzo la guna c'hai la mia e tira quella oh non c'avevo il caschetto cazzo che pirla ah se trovi un 2x eh sì sì ma ultimamente vedo perché lo sto usando anch'io sì sì ho il 3x vedi quello che ti avanza e qua il 3x con il mirino latino oh ma ha sparato un altro non c'ho per curarmi cosa non c'hai per curarti? aspetta io c'ho non c'ho kit ma c'ho antidolorifico e due bevande che cazzo era? non era dove eri tu? ma non l'ho visto? lo sai che potrei cambiare le munizioni, il fucile, prendere? ah eccolo è sopra il balcone che coglione che so era lì morto allora se mi trovi vale ma dove eri un Darozok per poi andare via eh sì perché sei ristretta oramai stanno venendo Darozok direzione Yasnaia quindi verranno in qua scusa stavo pensando per lasciarti il 5.56 io mi dovrei prendere un fucile tipo l'SLR ora voglio voglio capire l'SLR rispetto al M16A4 non c'ha nessuno una bevanda manca il paghetto danni per proiettile cadenza di fuoco peggio è tutto peggio però danni per proiettile un po' di più l'SLR però danni al secondo meno va bene o sa che c'è scarsità di non ho una fumogena non ho una granata a frammentazione zero ah giusto possiamo usare i ruti mi dimentico mi dimentico sempre che cazzo sì ah qua c'è un 3x che lo mettiamo sull'MP5 no per adesso no anche quando ci metti il 3x non ci monti pure il laterale in realtà dovrei però mi piace imparare perché quando so vicino vicino metto il laterale poi lo so però adesso voglio imparare a prendere confidenza con il lì c'è un 2x ti serve? no facciamo così ma io ce l'ho ah mi serve per le pistole un caricatore o estrazione rapida o esteso ah qua c'era uno me l'ho pingato che scarsità di pefande niente proprio le pefande se ne so dimenticato eccolo qua il mutant perfetto prendo il mutant ti mollo 125 delle tue le verdi ce l'hai? ah butto via innamorato del MQ5K ma questo vero è rimasto era ucciso a pugno no 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 si è improvvisamente animato era fermo sul muro io dico era ucciso a pugno e si è animato ma vaffanculo mi fanno sprecare le cure mi fanno sprecare colpi si è girato improvvisamente mi ha sparato mi ha preso pure capito? è un bot era cazzo abbiamo scoperto una nuova tipologia il bot Mimo non è certo ma è fregato pure vabbè dai qua c'è un cacchio ah due granate lo trovate sono totalmente senza senza che cazzo stavo dicendo fumogene non ho fumogene io non ho spaccato due perché devo fare missione ma cazzo quante ne devi ancora lanciare eh perché ne devo lanciare per quattro partite e quattro fumogene a partita che cazzo la missione ma pure te l'hai fatta è una settimanale ah sì sì allora sì ma siamo sicuri che le si oh caricatore no stazione si può dare comunque ne ho trovate due adesso sono di fumogene io pure c'erano altre due non è che debutto proprio così proprio senza cazzo se passa ma non è devo andare bellissimo estesa estrazione rapida per la mp5k perfetto sì dobbiamo andarci allora su rozzoc de cura c'era una macchina dentro il garage possiamo andarla recuperare tra sette secondi parco da prendere verso bottigliarden ci vado a piedi lo vado a recuperare lì sì ok qui davanti a me convergiamo sulla strada capito dove era la classica macchina tra botti al deroglio sì sì ok mi viene due per dai lo metto è efficientissimo va è sgommatona ah no bisogna andare perché ah sì io chiedo sempre perché perché la mission oh non per ripararti sarebbe strecato per la missione ma torna come corre la safe allora dobbiamo passare di là c'è il fiume dobbiamo passare sotto di qua è pingato perché di là c'è sì no no sotto dobbiamo passare fuori botti hard bellissimo bello due ruote dovrebbe esserci come nei giochi quando vai su due ruote ti conta i metri prrrrrr quanto te ne manca ancora? non lo so tantissimo vai salita allora leviamo il ping a questo punto ci sono queste casette qua che sono ancora per un minuto fuori safe ho paura ad avvicinarmi però andiamo andiamo tutte porte chiuse qui c'è una granata qui c'è una granata due granate a frammentazione servono è un kit abbastanza allora allora qua te lo pingate allora qua te lo pingate allora qua te lo pingate omogena ci sarebbe anche una molotov che ha sempre il suo perché qui c'è un augo una km un vector non so se volevi fare cambio qui c'è una bevanda dove sono io pigliana ma che c'è un'adrenalina via via molotov 9 mm red dot oh andiamo scusa ma non l'hai tirato tu no ma senti un altro rumore te l'ho messa in moto no devi curarti fammi guidare così ti pigli una roba allora ti piace sta cosa ok devo andare dritto però cioè in realtà dovevi andare storto sennò c'erano gli alberi allora allora vediamo un po' in giro allora siamo in una pianura no sono sceso porca troia perché volevo annullare un quadrato invece ho schiacciato tutto sarebbe stato bello se ti sbagliavi una frammentazione che è successo se facciamo la clip di quello che ci è successo finisce domani mi sa che sei un po' stanco guido io c'è tutto oh 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 ah colpi ben assistati si va a sinistra due volte a destra a sinistra a destra a sinistra e poi una volta a destra e ma così siediti a riparo eh bravo sei giusto seduto ok cambio guida cambio guida no 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 voi sparate bene ma dato che mi dicevi a sinistra va bene devo ancora capire dove cavolo era quello era dalle casette urca attenzione arriva allora arriva da dietro di noi ok io non ho capito dove no mi fa di nuovo quel glitch del cacchio ci fermiamo in queste case qui che sono in si ma non ce credo ma che gioco del cazzo e ordiniamo le idee occhio alle che c'è anche sulla destra sparono ci fermiamo qui noi e oh devono essere dal rumore dietro a quella casa si l'ho visti le visti la sulla finestra pinga la finestra ah ma tu sei qua troia è dentro casa quindi ho aperto la porta è uscito forse visto eccolo è andato laggiù e gli ho sperato un po di colpi fase 5 sta a partire troppo quale credo dovrebbe venire qua però fase 5 domanda via 6 si butto via un po di colpi e prendo un'altra fumogena forza le fasi 5 ho sentito uno dritto a sinistra a sinistra nei campi ma merda ma come fai a esserci sto glitch del cacchio ok ce l'abbiamo ce l'abbiamo a sinistra alle case e queste case qui attento che così gli porgi il fianco eh ma dovremmo andare solo in casa eh vabbè allora giriamogli dietro che loro magari non fanno in tempo ad andare su quelle dietro 6 persone in vita esatto ci fermiamo in queste si buono dai speriamo che non ci sia nessuno merda siamo in svantaggio di urca urca sei in vita no scusa ho sbagliato c'è uno mi ha messo a terra è molto ferito qua dentro un orso cattroia l'ho messo a terra e poi dopo sono morto perché prende un po adesso muore anche lui e ha ne vinto gli altri cazzo secondi però l'ho messo a terra l'orso bastardo bravissimo bravissimo ci ha ucciso la è stato bravo a lanciare la molotov sul mio corpo peccato che tu sei entrato da lì peccatissimo guarda veramente è stato bravo a lanciare non lo prendevo sa non c'era altre entrate ho fatto un altro giro ma c'era altre che ci ha sparato meglio per ragazzi madonna allora bello 399 allora si chiama WBHallon bravo vabbè è stato bravo dai se l'è meritata ci ha tirato una granata dopo che scusa un molotov 399 c'è sempre i guantini però vedo che portano bene siamo arrivati i primi secondi ma allora sono burruto così questo è fatto questo è fatto ecco devo fare per l'ultima volta 4 granate in una sola partita devo guardare 1500 metri con un veicolo non ho fatti 800 aveva anche i pantaloncini da da bike se ho ancora vestito così cosa non si fa è davvero sparare in amicizia ah le missioni mi manca fai scoppiare un pneumatico e poi fatte le settim- ah c'è la settimana 3 è nuova ecco eh lo sto finito oh cazzo eh no io non ho più giocato quindi cioè non ho più giocato ho giocato ieri cazzo vedi sei già avanti io stasera e non me ne sono d'accordo stasera di guardare anche le 3 tanto le facevi già te quindi va bene e quelle di fare le fumogene come me ne devi tirare 4 ogni partita magari mangio cena poi sparo due granate così al volo no perché mi interessa solamente arrivare nella fase 3 delle ricompense e poi e poi basta perché credo di esserci già forse ma è un livello è un livello per arrivarci alla fase 3 ah ma io io credo di essere ma perché se è la fase 1 la fase 2 eh quindi cosa vuol dire livelli il prossimo livello è 3 a livello 11 fai la fase 1 a livello 21 fai la fase 2 dai facciamogli vedere come si fa a linea di volo poi secondo me ma potremmo anche andare non troppo lontani a milta ma non mi piace mai milta a school dai 33 dai 70 per cento 30 si sono buttati già da qua madonna vai mi sono buttato un po' in ritardo a school va vabbè ma no school oramai no non mi piace dai oramai ci abbiamo un po' cinchi vabbè dai va bene allora la riga sulla mappa che ho messo è addirittura lì il 70 per cento erano scesi lì agli asnaia oh e se veramente prendessimo due armi andassimo subito con una macchina là a girare adesso vediamo cosa succede qui ok dai vediamo un po' quanta gente io sono distante vediamo un po' allora sopra di noi dietro di te c'è uno e basta che viene lì allora aspetta che voglio subito uccidere quello al volo no me l'ho so perso eccolo là eh maledetta non ci rende vabbè l'ho pingata sappiamo che c'è uno là andamocela a prendere c'è un m24 qua lo gradisci o? eh anche sì però sono distante da te vabbè vabbè lo prendo io perché ogni tanto vorrei anche imparare un po' di usarlo se trovi la mp5 mp5k dimmelo se non la prendi tu e qui non c'è questa mp5k ah hai ragione può anche essere sai che non ci sia dai dai fammelo prendere caricatore c'è un mp5k non posso prenderlo il il trasmettitore di bluechip o butto via un po' di colpi presa madonna come mi incastro da tutto ah il supporto da spalla per il l'Uzzi ah l'avevo visto prima ok ok l'ho trovato incredibile rischio niente niente zaino eh uno mi servirebbe per l'M24 ok cazzo sono già la terza casa e non c'è ancora un cacchio di zaino niente 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 n Grazie a tutti. Ok, allora, zaino trovato. Anche l'MP5K. Qui potremmo andare verso la zona 70%, secondo me. La macchina la porto lì? Porca bombe! No, no, le bombe che c'è. Un saluto allo spettatore, ciao. Non so che sia, ma salutiamo sempre gli spets. Gli spets. No! La pistola che mi piace. Gli spets, mazza. Gli spets hanno sempre ragione. Uh, c'è un'altra qua, guarda. Un'altra pistola. Le 556, ok. No, io non li uso, le 556. Ehi, Monica005. Hi, what's up? What's up? How's you? How's you doing? How's? It's correct. We are playing Pudge and Coop and we are having so much fun. Ah, Lotto! Cazzo, sono uscito dalla casa e non l'ho preso, Lotto. Sai che non mi ricordo qual era? Era questa, credo. Era al piano di sopra, porca troia. Non è più pingata? Eh, spai, 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 spai. È pingata? Pingata gialla? Dove cazzo? È giallo o arancione? Sì, sì. Sì, sì, madonna, me le stavo dimenticando. Dai, vediamo, momento buono. Dobbiamo andare. Ma scusa un attimo, ecco. È il P? Ah no, è il giallo, scusa il tuo. Non parlo in inglese. Yeah, I do speak in inglese. Do you want to play with us? Cazzo, non riesco a vedere sulla mappa dove è il giallo in dettaglio. Porca troia, è davanti a me? Boh, non riusco a vedere. Devo salire su di sopra e vedere se lo trovo, perché da vicino sparisce sto cacchio. Ok, preso, eh? Preso? Preso, Ale? Sì, sì, preso, preso. La macchina è qua? Spingata. Monica, do you want just chatting or do you want to play PUBG? Why you are here? Hai, sei, hai... Hai, hai, arrivo. Che fa? Ho salutato. Ah, ah, qui. Eh, l'aspettatore. C'è uno che... Che qui è? Dove? Mica mi hai fatto paura, sono scesa. Sentivo che camminavo sul piano di sopra. Ah, just chatting. Just chatting. Ok, ok. I don't think I'm so good to chat while playing on PUBG, so I'm sorry. C'ho una bevanda e un antidolorifico, cazzo, li devo già usare. Ho trovato pochissimo. No, non si ringa, se vuoi. Allora, io ho due kit. Yeah, yeah. Sorry, Monica. So, ah, now I comprehend more, so you want to offer your work to me. So, I'm not a streamer, as you can see. I'm only streaming by PlayStation 5 for fun. So, sorry. Ah, this is my mountain bike gloves. Because I came back home and I started playing. So, I'm sorry. I don't need any kind of service. Thank you, Monica. Andiamo a conquistare il faro, bella idea, bravissimo. Non lo facciamo mai. Mi sembra una figata sta cosa, un po' un adventure. C'è due sedi, Alice, c'è una metà sedia qua a godirci. C'è due? Ah, due sedie? Ma dimmi che ci si può sedere. Cacchio, non c'ho un... No, i kit ce li ho. Non ho bevande. Eh, sì. Tiè, tieni. Devo ancora recuperare... Ah, la seringazza. Anche le bende. Non so, le sedie. Eh, dall'altra parte. Ah, de fora. Sai che se nel gioco pub già avessero messo... Oh, c'è una macchina, c'è una macchina là. No, mezzo curazzato. Vista, vista. Maledetto. Merda, merda. Allora, loro vorranno andare sul ponte e poi si piazzano di là. Eh, non si fermeranno certo lì. Però una bella eccecchinata dall'altra parte del ponte gliela potremmo fare appena si fermano. Nooo, oh cazzo. Andate a sbattere. Eccolo. Ti vedi? niente hanno andato oltre si sono andati li tengo sotto controllo perché sono andati a destra secondo me ora voglio capire se si fermano di là così sappiamo se ci vogliono si ti aspetto qua sotto tanto da un'occhiata a capire se si sono fermati dove ok via fai la manovra di affiancamento e salgo ma se è efficace o sono scesi vai 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 super mi devo vederti super mi di una lunghezza e no troppo troppo perché io quando guardo avanti se ti vedo comunque sono scesi sono scesi e si sono messi a sinistra a destra e del ponte se tu come passi se non ci sparano vai subito a sinistra no se ne sono andati ok buono almeno ce lepiamo dai coglioni di questi allora probabilmente molti arriveranno arriveranno da qua e allora io ho pingato la zona dove potrebbero arrivare il 70 per cento dei giocatori dall'altro ponte ecco infatti visto merda e dall'albero davanti a te eh ah bravissimo bravissimo allora gli a eccolo lo vedi davanti a te è l'orso verde occhio no 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 non è l'orso verde destra 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 ah sì morto e te l'ho detto te l'ho detto bella bella comunque però sempre verde era sì era una gallinaccia allora la gente arriverà poi da qua oh 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 dove vamo vamo e arriveranno davanti a noi quindi posizioniamoci a destra su quella cima di questo ma è il ping giallo è però sì perché è già partita dai ok mi lascio il ping in questa direzione perché è la direzione da dove arrivano dall'altro ponte urca sopra la collina a destra 90 gradi sparano ma come mai mi fa quel glitch che quando mi sporgo eh miro col mirino 6x e c'ho davanti un pezzo di non so proprio ma che palle cioè ecco il mezzo lo sento gente dietro di noi direzione sì mi hanno sparato ping a vicino Ale lo visto lo vedo lo vedo lo vedo dimmi che scendono ecco che scesi la moglie a rubare preso è rimontato su comunque non è invincibile ok madonna come mi sta nascondendo morto ok guadagniamo zona bello bello che se stanno a scannare qualcuno giù dagli asnaia cattroia c'è i cannoni Ale penso si si poteva usare ma figata allora questa safe dura poco qua dobbiamo andare avanti urca la pianura del cazzo massimo sulle case li possiamo andare almeno siamo al sicuro pure queste qua sulla collina quale eh eh però passiamo lontani da lì prima ci facciamo ho paura un po' no non ci vede nessuno se stanno a sparare eh ma mica so dieci in vita eh ok ok prudenza eh dalle finestre per ora non vedo nessuno la casa bianca sono dentro ok io sto guardando ancora se arriva qualcuno 8 uh lo vedo lo vedo lo vedo uno la e uno dietro la casa ok ok sono nella casa eh non li vedo da qui ho fatto fuori uno a gomma ok sono dietro la casa preso che cazzo guarda questo da non mi sta a sparare è dietro al muretto eh mi sta a sparare uno eh non so preso merda non avevo un altro colpo ok si si sta sparando non sai da dove ah le spalle può essere ok io sono basso e non mi hanno ancora sparato loro loro sono in vantaggio cazzo dobbiamo andare la abbiamo un mezzo per andare la e fare boom arrivarci con la macchina arrivo orca troia sono morto porca puttana porca puttana ti stava ho sentito sparare dalle case eh si si è dentro la finestra merda 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 si quelli erano lì 55 colpi cazzo mi serve spariamoci l'antidolorifico quattro in vita vuol dire che spariamoci ma basta e che cacchio faccio adesso mi prendo questa e carichiamo lm24 mezzo speciale non ho visto però ok mi faccio scudo degli alberi spero che siano rimasti di qua senti l'arma si si ho sentito i passi vicino eh c'è uno che secondo me si stava spostando di qua ma quello che cazzo era ma quello che cazzo era non mi sa che l'ho visto sulla sinistra in alto eh no era un ciaspuglietta sai che non ho ecco la dentro ci sono due squadre arma arma fai paura quando nel giro sei fatta fase 7 fase 7 prendi la macchina nooo dovevo fare un altro kit subito va bene beh questo è il mio errore in questa fase anche se tu mi hai detto fase 7 l'ho capito però non ho guardato la salute devo imparare a guardare salute e cosa salute e gioco con livello cazzo con livello 7 mi sarebbe piaciuto sparare qualche colpo io ho fatto un errore del cazzo perché ovvero io stavo fermo miravo quello ma quello era dentro casa io gli ho tirato un colpo e lo me l'ha tirato due tre e basta eh sì devo sparare e copiere sparare e copiere eh sì intanto ce faccio poi invece intanto mi blocco lì fermo come uno scemo o comunque devo guardarlo su gt7 se c'è il drifting c'è cazzo c'è il drifting c'è anche cosa dicevi tu il no il drifting ah ma no era un'altra cosa oltre al drifting non so vabbè fanno l'ultima rifaticate ok ok a che livello sono ok io le missioni le ho finite perché sono a livello serie 3 scusa a livello 21 sono 21 quindi serie 3 e quindi mi posso poi prendere tutto vai prepara via non mi ha più detto se vuole offrirmi i suoi servizi eh monica underscore 00 qualcosa ci fanno ci fanno ci fanno perché quando arrivano con I am digital artist ehm ha capito rondo rondo ehm rondo rondo ehm io ci inizio ad avere fame ehm ehm o si potrebbe rondo vuol dire sempre l'assalto al super tanto rondo c'è eh però beh sì aspetta secondo me guarda eh in queste strade qua no da qua 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 secondo me un veicolo lo troviamo uno salta corto uno salta lungo lo dobbiamo buttare no andiamo andiamo alle prime casette qui del di andiamo avanti a luttare poi facciamo l'assalto volendo eh se ci gira bene ci siamo secondo me su quella strada lì cazzo un veicolino cosa facciamo oppure andiamo eh no 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 ti scevo ti scevo ok allora chi chi si butta tipo qua corto e poi va avanti e chi si butta lungo più un qua per battere tutta la strada io mi butto corto dai io mi butto qua si più o meno si si così io faccio a piedi quella zona lì ecco lì dai da quell'incrocio che c'è lì si io mi butto giù praticamente subito e guardo in questa zona qua se che c'è sa che bella arrivare belli carichi a noi cosa ci serve per farli fuori delle anche delle granate la frammentazione no perché non stanno mai fermi difficile usare però quando ce n'è tanti buttarne due o tre al primo piano vabbè se le troviamo bene se no si si tanto alle dipende tutto da dove va il si comunque ho la porta quella bassa dove avevi fatto la tua prima kill della guardia quella è buona eh è inutile salire sull'orso la secondo è troppo secondo me va bene anche entrare dal retro cazzo non ho ancora visto nulla qua ah trovata trovata una l'ho trovata eh praticamente qua io qua non c'è niente di te tu vai a luttare già alle case vicino che io arrivo da te non c'è niente di te non c'è niente di te quindi andiamo tutti e due dove? alle prime case di queste qua allora tu sei sai che non ti vedo sei là ok arrivo ma anche tu ce l'hai la macchina ok quindi andiamo direttamente la scusami non c'è niente di te non siamo in safe la prima fase oh porco cacchio midonna no la devi vedere questa mi devi venire a prendere però è stato una delle cose più belle del mondo Ho fatto una discesa sulla roccia Mi ha ucciso uno Come ti ha ucciso? Eh, c'era una persona Irangiaco Ah, non c'ho le armi No, no, no Cioè, adesso io rimango qua Pingate Ah, cazzo, non ce l'ho fatta Dove cazzo sono sulla mappa? Allora, mo te lo dico Allora Sono andato dritto Guarda, sì, mi son pingato Mi son pingato, esattamente dal giallo Allora, non arrivare adesso Lutta nelle altre case che hai dietro a destra Eh, perché questi qua sono ancora lì Sono, erano in due Cazzo Rimaneva giusto dentro Ma come facevano già essere lì? Allora, ho preso una scorciatoia Ho rallentato perché c'era il precipizio Ma era così ripido E c'era tutta una serie di rocce Rocce e rocce continuava ad andare giù bene E poi l'ultima Sono uscito dalla macchina E c'era uno lì Ma che cazzo facevano lì? Un umano, eh? Eh, dà un'occhiata se vedi già Verso il ping quei tizi Guardando dalla collina Era Ah ma è lontano ancora Sì Fermati qua, fermati qua Fermati qua Ecco la mia macchina laggiù Lì c'è tanta roba da luttare Eccoli C'è scritto rip Sì È stato stronzo Ma non gli ho dato soddisfazione Ma che fai? Non te ne vai via? Minchia che azione super furtiva Medaglia d'oro Del coraggio Questo è quel cazzo di camioncino Che non gli funziona la retromarcia Ti ricordi quando si eravamo andati a Si eravamo andati a spalmare Vai verso il ping arancione C'è lì l'antenna Guarda Proprio dove dovevamo andare Ecco Ti conviene Ecco vai dritto così E prendi la strada Quella che è davanti a te Che è la strada migliore Ora vediamo se Rimane ancora in safe Questa? Superb No 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 Sì sì Vabbè Segui quella Sì sì Era l'altra Ma non c'è problema E quella tutta la tua Brava A sinistra Bello Avevamo anche il deltaplano Per O scagitare una fuga Tra quattro minuti Arriva la safe lì Quindi E poi magari ci abbiamo fortuna Prendi la prima a destra E la prima a sinistra Andiamo dalle case Queste Vai dritto Vai dritto dritto Ma hai sentito delle bombe Secondo me qualcuno ci è andato Al audio Ah no Era il campo elettromagnetico Ok a destra Ok a destra 170 secondi Allora cosa c'è Allora cosa c'è La linea di volo dove cazzo era Proviamo a tracciarla Era tipo così Ok Allora cosa c'è Allora cosa c'è Ok Elettromagnetismo Sono maledetti L'hanno tirati proprio Nella zona del super 97 secondi E prendi i soldi Perché a livello 3 Ci compriamo roba buona Pia di tutti Ma tanto non so Non ci andiamo Fase 1 Dopo quando arrivi Devi luttare Dopo lì si stringe Eh però Infatti stiamo aspettando Cosa succede tra un po' Tra un minuto e 13 Arriva Vicino la safe È difficile andare via Quasi impossibile Vabbè dai Tanto dobbiamo vedere Se dopo quella lì Fra un minuto Rimane ancora dentro la safe Ah tu hai messo il pulmino Praticamente dietro a quella casa lì Creda Grazie a tutti fra 15 secondi sappiamo dov'è la prossima safe, così decidiamo, io fra 9 secondi so dentro niente mi pare caduto verso di te ma purtroppo il superb è esclusivo allora una macchina forse qua, non ne sono sicuro, ha un pulmino è qui, un'altra è qua sì sì no no io vengo lì vengo lì ho già trovato una macchina sì sì ma io sono al filo della safe, lutto quelle case lì ah no 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 non ne ricordo averlo detto grazie Grazie. Sento, sei tu. Sì, devo prendere un sacco di roba. Ho anche preso l'aiuto dal cielo, sai quello che tu lo chiami e ti manda quei cubi di cemento per proteggerti? Ho il pacchetto, invece quello lì è l'emergenza per volare via. Ah, buono. Merda, non c'ho niente, non riesco a trovare nulla. Medicinali, zero. E va bene, a questo punto esco. Ah, le macchine non vanno, ok, è smesso. Ho fatto cambio con la macchina e il pulmino. Come e giù. Oh no. Oh no. Ok. C'è un otto perra, se ti serve. Io c'ho l'acee, vabbè, dai, va bene. No, il 2, scusa, il 2, il 2. Ah, il 2 sì, sì, se me lo molli sì, lo prendo, perché ho solo un olografico. Allora, sì. Ok, via. Mamma mia, che cattiveria. Dobbiamo distruperati. C'è anche provata... No. Wow, grande. Oh, macchina. Cazzo, c'è il fiume. Riusciamo a passare. Sì, sul fiume c'è passato. Eh no, eh. Grande, mossa disperata. Bello, anche il salto! Eh, c'è un'altra macchina qua. Grandissima. Evidentemente è un'operazione... Sì, prima l'ho fatta e sono riuscita bene. Uh, c'è uno con... Spara là! Dove sto guardando io? Peccato, c'era uno con... Uno l'ho preso una volta, ero lì. Dove? Eccola, eccola, eccola. Uh, grande. Mi sta a sparare? Eh, ma sono loro che devono muoversi, quindi adesso devono arrivare qua. Io gli aspetterei, tanto siamo a un passo della safe. C'è uno dietro! No! Terra, so... Presa la testa! Merda, merda! Merda, merda, arriva! no 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 porca troia ce l'abbiamo lì vicino eh qui no mi ha preso minchia avevo il fucile sbagliato e dove sono io si sta curando e porca troia peccato ma mi ha presa la sprovvista perché sembrava da solo quello lì poi mi ha spuntato l'altro bene vabbè dai un po' di sparapiglia che sfigato che sono che sfigato che sono avevo invece che l'uzzi ci avevo tipo l'ace a un colpo e mi sono messo l'ace a un colpo e l'uzzi eh va bene e quindi quando quando ritorni lunedì va bene oh 21 cacchio che c'è le robe da prendere allora ah c'è la serie 3 poi finito questi e basta non ci sarebbero più missioni 15.000 bp è posto ho preso tutto Vabbè dai, io le quattro fumogene poi le farò totale a 600 punti ma no le farò le farò no perché se sono alla serie 3 eh appunto scusa siamo alla serie 3 c'è da prendere il balletto sfigato i bp gratis e i g coin wow è un momento epic e poi con il livello 400 c'è tanta responsabilità e non è che si può si è per forza va bene buonanotte notte ciao grandissimo ciao ciao e quindi buonanotte a tutti ciao alla prossima